Allora, partendo di campana, a meno 35, prima eliminazione, a meno 34, Giulio Maschi, 20.000 a letto, eliminazione, allora la mettono subito su un buon ritmo, 20.000 a letto, 20.000 a letto, 20.000 a letto. Allora vediamo il passaggio, il gruppo, la nuova scuola della campana e il piano in eliminazione con Gulai che si è portato in testa, ha fatto una palla filata, non ha preso il margine ora si porta in testa, va nel gioco con la rosa in seconda posizione, va un po' come gli occhioli di questo gatto, intanto andiamo alla prima eliminazione, 1-5-1, 1-5-1, fermarsi, Gugelazzi si rialza, mentre non l'hai, si è portato in testa al gruppo con Giotto, poi Massa ha riconoscito nelle mie posizioni, ma stiamo di nuovo al passaggio e eliminazione in corso, attenzione! Salta una caduta, 3-80 fermarsi, 3-80 fermarsi, salta l'eliminazione a questo giro per che si è ritirato l'atleta caduto, quindi l'eliminazione a Bianchi l'atleta che si è ritirato gioco con la caduta, nel prossimo passaggio, passaggio numero 31 con Giotto in testa al gruppo, Sotto la rosa, la mullai, nelle prime posizioni, andiamo a vedere la coda perché è la prossima eliminazione, 2-8-7, 2-8-7 fermarsi. Al prossimo passaggio saranno a 1-30, ancora Giotto, si formano due treni, testa al gruppo, uno interno, uno esterno, si vanno a cercare le posizioni e siamo già sul rettilineo d'arrivo, e andiamo con la prossima eliminazione, 2-6-8 fermarsi, 268, 2-0-3 abunizione, intanto in testa al gruppo, Giotto, il gruppo, si ripresenta, si ripresenta, si ripresenta, si ripresenta il rettilineo d'arrivo, la vediamo in eliminazione, 1-9-8, 1-9-8 per Massi, Giotto, si ripresenta, si ripresenta, si ripresenta, si ripresenta, si ripresenta il rettilineo d'arrivo, e andiamo alla prossima eliminazione, 4-1-4, 4-1-4, 4-1-4, 5-0 fermarsi, 8-0-3, 8-0-3, 8-0-3, 80-0, 1, 2, 9, ha morito. Ed eccovi che ripassano 4-3-9, dovrei dire che si vedremo, che si rialza, al passato saremo a meno 25, a dare ancora Luca. Anche lui, sul recilinio, prossima eliminazione. L'uomo in reato, in reato dal corso. Non sava di essere stato lui. Non sapevo. Non sapevo. Non sapevo. Non sapevo. Ora è l'antietta del rolling ball in that che si è portato in testa al gruppo a testare la natura, ma all'esterno subito dietro, si mette davanti. Andiamo a vedere la cosa per questa eliminazione. 1, 6, 6 per Massimo. Marisol. Ora Mullai in testa al gruppo. Anche il gruppo che si ripresenta sul recilinio d'Abrigo e il minaccio al corso. 1, 6, 2 per Massimo. 1, 6, 2 per Massimo. Governo. Al prossimo passaggio. Coltafilla, meno 22. 1, 0, 4 per Massimo. 1, 0, 4 per Massimo. 1, 0, 4 per Massimo. Morphe, Stanislav. Enziere, c'è una caduta, che è una caduta, si è rialzato l'atleta caduto. Siamo due atleti per la grande nuova, 80 per bassi, 80 per bassi. Siamo due atleti per la grande nuova, 80 per bassi. Contagini a meno 19, con Bullay, l'arbit che si mette in prima ruota a testare l'andatura del gruppo, Massimo, a metà, dietro, 2-6-6 per bassi. Coroni, l'unasport a Cadele. Ora una coppia di attrezzi del Belluso che si portano in prima posizione. Dipende, se hai tutto il gruppo di fianco se... 129, fermarsi, Silvestri. A prossimo passaggio. meno 17. Dai Kevin! Dai Kevin! C'è il lino di voce! Super, super alla nuova! Andiamo. Il assunto è assolutamente di nuova, 70 perقةarenza. Ce la c'è? 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 Borsia, eccomi di nuovo sul traguardo al passaggio numero 16, numero 98 fermarsi, 9-8 fermarsi. 38, scusate, numero 38, San Giorgio numero 38 fermarsi, 144, ha morito. Allora viene... Al passaggio presidente è stato eliminato, adesso viene eliminato il numero 94, 9-4 fermarsi. Al passaggio presidente è la treta del bellisco che si è ritirato. Ed ecco di nuovo il gruppo sul... E' finito il bellino, 6-1-4, Grisoli. Un'altra treta del bellisco che si è ritirato nel numero 196, per la precisione. Da quel gruppo che si presenta nuovamente sul rettilineo Carrile, al passaggio del numero 12, con la rosa in testa. Andiamo a vedere dietro. Numero 39, Chiola, fermarsi. Ora la rosa in testa al gruppo, con l'oggetto, con la rosa in testa al gruppo, con l'oggetto. La rosa in testa al gruppo, con l'oggetto, con l'oggetto, con l'oggetto, con l'oggetto. Il numero 203 entra in disfida. 203, qualificato ed ecco un gruppo che ha avventato la tira al passaggio e allora la gara sta entrando piano piano nel vivo ne restano sempre meno, al passaggio avranno un conto a chi di almeno 8 ora è a nullarli che si prende il compito di mettere la natura ma salta l'eliminazione, no eliminazione per il filo di una traccia al prossimo, contattivi a meno 7 ok ora la stretta dei bandinatori San Mauro in testa salito in testa al gruppo, con i mulari, con il dietro e silenziano per l'eliminazione a questo giro 1, 2, 9, 8 fermarsi al prossimo giro, contattivi a meno 6 ed è Salino in testa al gruppo ora all'esterno si lancia Mulai andiamo all'eliminazione 2, 1, 2 2, 1, 2 fermarsi al prossimo giro vedrà la numero 5 ecco lì al passaggio 2, 2, 3 è l'atleta che deve rialzarsi al passaggio meno 4 a questo giro a meno 1 a meno 1 sarà doppia eliminazione allora a meno 1 ci sarà una doppia eliminazione 2, 5 atto fermarsi l'attleta che deve rialzarsi la loro attrezzarsi alla campagna meno 1 ci sarà una doppia eliminazione 1, 2, 1, 2, 3 questo forse i pirati fare la volata 3 per la volta per la volta della rolling a testare l'andatura andiamo all'eliminazione e il numero 5 ed è il numero 18 Gullai Giotto Pol La Rosa Giotto La Rosa 188 eliminato per scorrettezza 188 eliminato per scorrettezza ora al passaggio coppia eliminazione Santana e coppia eliminazione Giotto Pol La Rosa che lancia la scelta Giotto Pol La Rosa 84-74 fermarsi 84-74 fermarsi La Rosa il Giotto con testa a testa Don La Rosa ora in prima posizione si presentano sull'antimidio di arrivo La Rosa La Rosa la Rosa la Rosa con il Giotto con il Giotto